Ospedali alle prese con le assenze del personale sanitario causa Covid. I numeri sul territorio comasco non sono allarmanti ma portano ad un'inevitabile riorganizzazione dell'attività. Al Valduce, ad esempio, è stato necessario chiudere temporaneamente un reparto di 12 posti letto destinato ai ricoveri in area medica. I dati dell'AS Settilariana parlano di 89 operatori sanitari assenti su un totale di circa 3.700 dipendenti tra gli ospedali di Sanfermo, Cantù, Mariano Comense, Menaggio, le aree territoriali e le cooperative. Un dato che, una volta scorporato, vede in questo momento coinvolti per lo più gli infermieri, il cui numero 27 in tutto resta comunque sotto controllo. Sono 19 gli operatori socio-sanitari malati e 13 i medici, 5 le ostetriche. La sorveglianza è continua e scrupolosa, tutela innanzitutto dei dipendenti e dell'utenza. Il quadro dei positivi è attualmente contenuto e nella maggior parte dei casi si tratta di persone asintomatiche o paucisintomatiche. Un effetto questo delle vaccinazioni, spiega Rossana Borchini, responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Medicina Preventiva e Legale e Servizio Medico Competente di ASS Tilariana. Sul fronte dell'attività operatoria, fanno sapere ancora da Via Ravona, sono state eseguite tutte le operazioni di emergenza e quelle dei pazienti oncologici. Mentre gli interventi programmati hanno subito delle variazioni. Al presidio di Via Dante risultano attualmente assenti 40 persone su un totale di poco meno di 900 dipendenti. Anche in questo caso il numero maggiore, 16 in tutto, riguarda gli infermieri. Mancano anche 4 medici, 6 operatori socio-sanitari, 1 ostetrica, 3 fisioterapisti. A questi si sommano impiegati e tecnici di laboratorio, 10 persone in tutto. Le assenze stanno incidendo sulla nostra capacità di mettere a disposizione posti letto, spiega Mauro Turconi, segretario generale dell'ospedale Valduce. Temporaneamente abbiamo chiuso 12 posti destinati ai ricoveri in area medica. Le risorse a disposizione non ci consentono di tenerlo aperto, ma l'obiettivo è ripartire appena possibile. Anche al Valduce le sedute operatorie sono state organizzate in base alle risorse e alle indicazioni regionali. Garantite le urgenze, gli oncologici e gli interventi non rinviabili. Sull'attività programmata non siamo a pieno regime, conclude Turconi, ma manteniamo buoni volumi di attività pur nell'ambito di una rimodulazione continua.